signore e signori buonasera buonasera continua con successo questa serie di rubriche appuntamento casa che le ditte semirare arredamenti vi offre trattiamo questa volta un argomento nuovo i soggiorni anche per questo ambiente abbiamo scelto diversi modelli per accontentare un po tutti e cominciamo quindi con una sala da pranzo in stile classico molto fine è davvero d'effetto questo modello quello che colpisce è la cristalliera con queste eleganti vetrinette si poi c'è anche un altro particolare che la credenza che voi vedete si può avere con o senza specchio che tra l'altro è anche un bello specchio comunque entrambi le soluzioni sono davvero azzeccate io stessa non saprei quale scegliere ed ora gentili telespettatori e con grande piacere che vogliamo mostrare questo soggiorno che io e claudia amiamo molto si infatti diverso dagli altri questo medio basso quindi con struttura moderna poi c'è anche da dire che questo soggiorno si può adattare benissimo anche ad una sala da pranzo inutile dire che anche questo fa parte delle grandi offerte che la ditta semirare regolamenti vi propone e infatti costa solo non dirlo sarà una sorpresa sì una sorpresa perché ci verrà a trovare nell'unica sede di via di nanni 56 a torino ma è qualcosa per chi ama un ambiente più ricco ricco nel senso che più lavorato ma esaminiamolo più attentamente questo è in legno massiccio e precisamente in noce nazionale poi ha degli elementi davvero molto pratici come i cassetti delle anti elettrine e il porta televisore anche il tavolo è massiccio quindi molto robusto e con delle sedie molto imponenti nel loro stile e visto che il signor semiraro si sta divertendo vogliamo allora fargli alcune domande per esempio quali sono le modalità di pagamento sono fino a cinque anni senza anticipo senza cambiare e le consegne dove vengono attituate le consegne vengono effettore in piemonte e in tutta italia e i termini di consegna quali sono termini consegna 10 o 15 giorni al massimo e per chi ha una grande urgenza anche in tre giorni ricordate che da me tutti i mesi ci sono grandi offerte è vero parola di donna ma buon vuoi 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 vuoi